Ben trovate a tutti e a tutti a questa settima ed ultima parte del corso sulle espressioni regolari nella quale vogliamo parlare di un ultimo comando che sfrutta l'espressione regolare appunto che si chiama rename ecco come suggerisce il nome del comando rename è allo scopo di prendere in input il nome di uno più file di modificarli secondo una regola impostata quindi rename rinomina c'è da dire che a differenza dei comandi che abbiamo visto nei video precedenti rename addirittura lavora solo con l'espressione regolare quindi non ha una forma di utilizzo di base senza le espressioni regolari ma va usato sempre e comunque con le espressioni regolari ecco quindi c'è la solita nota è se come sempre volete poi approfondire l'utilizzo di rename potete sempre farlo per conto vostro qui ci concentriamo quindi da subito questa volta nell'uso di rename con le sue opzioni e espressioni regolari dunque la forma base del comando di rename è composta così quindi ovviamente rename eventuali opzioni e l'espressione regolare da applicare per modificare il nome del file e uno o più file ovviamente le o per quanto riguarda le opzioni sono interessanti perché permettono questo dunque rispettivamente l'opzione meno vi sta per la forma verbosa ovvero vista per verboso ovvero è una forma estesa dell'output del comando e quindi cosa fa il meno vi quando si esegue il comando stampa i nomi dei file rinominati con successo ovvero al terminale vediamo i nomi dei file originali e come sono stati trasformati dall'espressione regolare che abbiamo impostato quindi il vi ci permette proprio di vedere il lavoro che ha fatto rename n molto interessante sta per non eseguire la modifica ovvero l'output il risultato stampato nel terminale dall'opzione n è identico a quello dell'opzione vi la differenza è che con l'opzione vi l'operazione di rinomina dei file viene fatta effettivamente i file nella cartella come vedremo verranno veramente rinominati mentre con la n e fa la stessa cosa ma non lo esegue quindi un'anteprima questo è molto molto interessante molto comodo perché con questa opzione noi possiamo vedere in anteprima il risultato e capire se abbiamo impostato correttamente o meno la nostra espressione regolare prima di poi andare a pasticciare i nomi dei file poi magari se rinominiamo mille file vai a rimetterli a posto manualmente se abbiamo sbagliato qualcosa quindi molto molto utile e importante questa opzione n l'anteprima del lavoro che farebbe il comando molto bene poi c'è ancora un'ulteriore opzione che sovrascrive eventuali file esistenti anche qui se noi rinominiamo un file che è il nome risultante nuovo risulta uguale al nome di un file che già esiste nella cartella anche qui attenzione ad usare questa f perché forza la sovrascrittura quindi andremo a sovrascrivere un file con un nome con il nostro file che è in corso di rinomina e passandoci sopra ecco insomma quindi attenzione ma molto interessante soprattutto la v per vedere il risultato a video di quello che ha fatto e l'n come anteprima del lavoro di rename ecco le espressioni regolari e la sintassi delle espressioni regolari usati da rename ricalca quella del motore delle espressioni regolari del linguaggio pearl e vi lascio qui il solito immancabile riferimento in rete se volete andare a dare a darci un'occhiata è al perl doc per r e vedete proprio la pagina dedicata alle espressioni alle regolari expression in ambito perla questa anche una nota importante da sapere rispetto al diversamente dal comando find che abbiamo visto nel video precedente rename lavora solo e sempre solo nell'ambito della cartella corrente quindi laddove ci posizioniamo rename agisce non accede ad eventuali sotto cartelle qualcuno potrebbe dire ci mancherebbe perché se faccio disastri nominare è già tanto che mi rovino la cartella corrente non vada a nominarmi un po tutto in giro quindi va benissimo così da sapere ottimo rename si limita il suo raggio d'azione si limita la cartella dove siamo posizionati andiamo con la pratica quindi esempi il primo rename lo facciamo lo vedete qui con l'opzione n quindi il primo esempio di comando è in anteprima quindi noi lo eseguiamo ma in realtà non verrà eseguito effettivamente facciamo enter ed ecco qua cosa succede la n ci presenta quello che farebbe il comando e quindi l'espressione regolare dice andiamo a sostituire qui la sintassi è molto simile come vedete a quella di sed dell'editor di flusso sed ovvero c'è il comando s che sta per sostituisci qualcosa con qualcos'altro evidentemente il comando rename dato il suo scopo di modificare la stringa da un modo da una forma in un'altra deve avere deve accettare una sintassi per forza di questo tipo quindi sostituisci un pezzo di stringa con un altro in questo caso cosa fa va a cercare con l'ancora dollaro quindi alla fine del nome del file che ci sia la stringa punto txt quindi l'estensione txt quindi tutti i file che finiscono col nome txt e sostituisce questo punto txt con punto txt maiuscolo diciamo una stupidata come esempio però per mostrare l'effetto di rename e questo fallo su tutti i file che appunto terminano con txt ecco la nota che metto che ho messo qui nella mia scaletta dice che ho voluto mettere il filtro asterisco punto txt per considerare solo i file txt tuttavia anche se avessi messo solo l'asterisco quindi tutti i file della cartella anche quelli che non finiscono per txt il comando avrebbe fatto lo stesso lavoro perché già l'espressione regolare ci pensa lei a filtrare solo i file che finiscono per punto txt quindi in un certo senso è un doppione questo filtro esterno però nulla vieta di essere chiari nei comandi soprattutto questi che cambiano le cose nei nostri dati e più sono espliciti meglio è ecco cosa ha fatto quindi andiamo a vedere cosa avrebbe fatto questo comando rename ha preso questo file che finisce per punto txt rename it as quindi rinominato in generazione che ha il punto txt maiuscolo ecco è così per tutti gli altri file che ha trovato con estensione punto txt quindi vediamo che funziona perfettamente però non l'ha fatto è solo in anteprima adesso glielo facciamo fare sul serio quindi sul serio vuol dire semplicemente togliere l'opzione n e sostituirla con l'opzione v giusto per vedere v non è obbligatoria le opzioni non sono obbligatoria potrei anche lasciarla via però se lasciassi via l'opzione v non vedrei il risultato a video di quello che ha fatto ma semplicemente esegue il comando e basta preferisco vederlo faccio enter e vediamo qui dietro che si è fatto un refresh della cartella studio re e vedete che tutti i file con txt minuscolo sono diventati con estensione txt maiuscola avete visto? in un attimo l'ha fatto ok per ripristinare la situazione cosa facciamo? per ripristinare la situazione facciamo il contrario a sto punto così rimettiamo le cose come sono anche se nella scaletta non c'è ma insomma così mi ritrovo i miei file di nuovo come prima dovessi rifare il video quindi questa volta facciamo al contrario tutto quelli che finiscono con txt maiuscolo sostituiscilo con punto txt minuscolo ops con txt minuscolo quindi quindi vediamo un po' cos'è che ho sbagliato ho sbagliato qualcosa quindi finale punto txt maiuscolo sostituisci con punto txt minuscolo ah si scusate naturalmente adesso essendo txt maiuscolo il filtro qua fuori non me li trova più col txt minuscolo quindi non ha trovato file ovviamente quindi devo dargli così oppure quello che dicevo prima dargli semplicemente l'asterisco lui li va a passare tutti e voilà era solo una questione di coerenza del filtro esterno txt minuscolo non ce n'erano in quel momento adesso ha fatto il lavoro contrario quindi mi ha riportato in minuscolo tutte le estensioni txt quindi voilà molto bene primo esercizio è stato concluso con successo secondo tipo di comando vediamo un po' cosa fa questo il primo comando trasforma in maiuscolo tutto il nome dei file con estensione csv quindi quindi ecco che se io eseguo questo ops eh ok devo mettermi nel terminale ovviamente quindi faccio enter non ho messo nessuna opzione non mi ha mostrato che cosa ha fatto il comando non c'era l'opzione meno v però il file con estensione csv vedete che è diventato tutto maiuscolo view vabbè i numeri e anche il csv stesso tutto in maiuscolo è diventato il secondo comando trasforma in minuscolo tutto il nome del file con estensione csv quindi fa praticamente il contrario eh rimetto le cose a posto ovviamente come prima con il txt non devo scordarmi di indicare l'estensione csv maiuscola stavolta visto che è diventata maiuscola faccio enter e vediamo che il nostro file è tornato minuscolo view e csv come l'originale la caratteristica interessante è che come dico qui nella nota anche con rename come per il comando sed esistono i due comandi s per le sostituzioni e y per le trasformazioni posizionali eh se vi ricordate o se avete già seguito il video su sed lì ho spiegato che differenza c'è e come si comporta y rispetto a s quindi s sostituisce in blocco y sostituisce posizionalmente quindi la minuscola la fa diventare a maiuscola la z minuscola con la z maiuscola e viceversa posizionale quindi anche rename esattamente come sed segue la stessa sintassi con le stesse opzioni possiamo dire sostituisci con la s o posizionalmente trasforma sostituisci con la y è quello che abbiamo fatto in questo caso molto bene quindi un po' parallelo a sed in certe impostazioni eh poi un altro esempio vediamo un po' cosa fa questo coso il primo comando cerca la prima occorrenza di s maiuscola si sostituisce quindi cerca una s maiuscola e la sostituisce con la parola s ecco la s è proprio scritta s in tutti i file quindi facciamo un'anteprima ecco l'opzione meno n più spesso faccio l'anteprima per non rovinare i nomi dei file faccio enter e vediamo che c'è un solo file che contiene una s maiuscola ssh.txt questa s è una s maiuscola un file e quindi lo rinominerebbe non fosse in anteprima in s e poi shtxt qui entra in gioco il il discorso sul comando globale oppure il fermarsi alla prima occorrenza quindi il comando così il comando così si è fermato alla prima occorrenza di s in realtà di s maiuscole ce ne sono due nel nome di questo file allora dobbiamo modificare leggermente il nostro comando in modo che consideri globalmente tutte le occorrenze che gli chiedo per questa riga e quindi come si fa attivo ancora una volta come in sed dopo l'ultima barra che separa i parametri del comando rename attivo il flag g globale quindi se faccio questo comando vedete che le due s entrambe questa volta le s maiuscola state sostituite dalla parola ss quindi verrebbe rinominato in generazione chiave ssh forse una cosa che ho fatto un po' velocemente ma ormai dovremmo averci fatto l'occhio ecco è che esattamente come sed anche il comando rename separa le parti del comando di sostituzione o rispettivamente del comando di trasformazione s o y con delle barre le slash quindi il comando s la barra slash poi la prima parte di di espressione regolare che termina con la barra poi c'è la stringa che va a sostituire e si chiude con la barra idem uguale per il comando di trasformazione y eventuali flag come in sed vanno dopo l'ultima slash dopo l'ultima barra la differenza con sed è che qui ci vuole proprio la barra cioè rename non accetta un carattere qualsiasi per separare le varie parti del comando ma ci vuole proprio la barra la slash e non si può usare un altro comando un altro carattere è più limitato in questo senso vediamo qui un altro esempio di di rename così giusto per cos'è che fa questo bel comando il comando sostituisce globalmente quindi con il flag g attivo eccolo qua tutte le cifre e i caratteri trattino basso quindi usiamo il gruppo di caratteri qui una classe di caratteri digit che vuol dire tutti i numeri praticamente e compreso in più anche il trattino basso sostituisce quindi globalmente con niente quindi vedete qui le due slash le due barre una dietro l'altra perché non gli indico nulla come stringa sostitutiva ovvero quindi tradotto in altre parole questo significa che sostituisco i numeri trattini bassi con niente e quindi tolgo di conseguenza i numeri trattini bassi dai nomi dei file quindi ancora una volta questo comando in anteprima vuol dire che per questo 1 2 3 4 5 6 file verrebbero trasformati in questo modo quindi odbc righetta bassa leggimi viene tolto la righetta bassa e verrebbe senza questo c'ha dei numeri qua dei numeri e verrebbero tolti i numeri resta solo il puntino in mezzo resto tutti i numeri questo al trattino basso via anche quello trattini bassi via entrambi perché globale ho attivato il flag globale quindi dove ce ne sono di più tutte le occorrenze qui vu csv resta proprio vedete vu csv perché tutti i numeri in mezzo al trattino basso in n occorrenze vengono tolti tutti e vu ods resta vu ods ecco interessante questo esempio un altro esempio questo cosa fa l'abbiamo eseguito adesso lo studiamo un attimo questo comando cosa fa sostituisce le estensioni originali dei file quindi tre caratteri e un punto a partire dalla fine del nome quindi c'è l'ancora l'ancora qui che cerca nell'espressione regolare a partire da destra quindi dalla fine del nome del file quindi per un quantitativo con le parentesi graffe di tre caratteri cerca qualsiasi carattere quindi le classi di carattere alfa maiuscoli minuscoli qualsiasi qualsiasi però per un quantitativo esattamente di tre e il puntino vedete la barra rovesciata puntino per non far interpretare il puntino come comando ma come carattere quindi se trova questo tipo di situazione alla fine del nome di un file sostituisce quell'estensione originale con un'estensione fissa .ts giusto per fare l'esempio quindi vedete che qui trova quella situazione quindi dalla fine del nome del file tre caratteri e il puntino e vengono sostituiti con tes puntino tes tre caratteri, tre caratteri eccetera eccetera poi ce n'è vediamo un po' ecco non necessariamente ad essere txt perché abbiamo detto genericamente l'estensione del nome del file quindi anche il punto csv viene sostituito da punto tes verrebbe sostituito il punto ds verrebbe sostituito anche lui da punto tes vedete qui è un modo per sostituire in massa l'estensione di un file e qui io potrei pensare per esempio sostituire non so delle fotografie che si chiamano punto jpeg o jpg e voglio sostituirle in gpeg o viceversa ecco cosa del genere con questo comando rename è relativamente facile o diciamo pure facile farlo con questo bel comando l'ultimo o penultimo sì penultimo esempio vediamo cosa fa questo qui che è un po' più lungo dunque cosa fa? aggiunge l'estensione punto tes ai file che non ce l'hanno ovvero ai file che partendo dalla fine del nome hanno tre caratteri non seguiti da un punto ecco quindi diamo per acquisito che se un file ha l'estensione sono i classici tre caratteri finali seguiti da un puntino partendo da destra intendo e quindi ancora una volta l'ancora dollaro per far partire l'espressione regolare da destra dalla fine del nome del file sempre per tre caratteri sempre i tipi di caratteri alfa sempre col puntino attenzione però la differenza rispetto al comando di prima è che c'è il cappelletto di not ecco quindi il not puntino ovvero non esistenza del puntino quindi cosa fa questa espressione regolare? si parte dalla fine del nome vede filtra i primi tre caratteri che trova e poi il quarto partendo da destra verifica che non sia un puntino questo vuol dire per questa espressione regolare che non essendoci il puntino è un file che non ha in realtà un'estensione indicata nel nome perché il puntino non è il quarto carattere da destra quindi è un nome di file senza estensione con cosa lo sostituisce? con il nome appunto del file stesso punto tes quindi ci aggiunge l'estensione laddove manca l'interessante di questo comando è che vengono sono stati creati due gruppi quindi con le parentesi tonde due gruppi che possono essere referenziati quindi la famosa back reference che abbiamo visto anche in sed e in altri comandi soltanto che qui non viene usato la slash la barra rovesciata la back slash ma il dollaro per fare la referenza ai gruppi questo perché? perché dall'espressione regolare noi abbiamo bisogno di ricavare comunque il nome originale del file perché quello lo conserviamo quindi il nome originale senza estensione noi a quello vogliamo aggiungere l'estensione non sostituire un nome con un altro quindi conservare il nome originale vuol dire che nell'espressione regolare devo provvedere a crearmi i gruppi necessari ad avere in mano qui nella parte di sostituzione il nome originale quindi c'è un primo gruppo che considera tutti i caratteri qualsiasi da 0 a n caratteri che è la prima parte del nome partendo da sinistra e poi appunto con l'ancora qui da destra gli ultimi tre caratteri e il non puntino quindi un qualsiasi carattere basta che non sia un puntino incluso in un altro gruppo quindi il gruppo numero 2 quindi qui nella sostituzione posso fare riferimento alla parte iniziale del nome all'ultima parte degli ultimi quattro caratteri che non sono appunto il puntino ma sono altri caratteri opera finita eseguendo questo comando vediamo che ho due file in questa cartella due file che non hanno estensione gli unici due sono pippa e vuoto pippa e vuoto quindi questa espressione regolare si accorta che c'è un certo numero di caratteri poi un carattere che non è un puntino e ultimi tre caratteri che sono altri caratteri qualsiasi e in effetti tornando indietro da destra quindi nel nome originale vediamo che c'è uno, due, tre caratteri il quarto caratteri non è un puntino uno, due, tre caratteri il quarto caratteri non è un puntino quindi sono candidati questi due file ad aggiungerci l'estensione e in effetti poi grazie al riferimento ai gruppi ricostruisco il nome originale gruppo 1 più gruppo 2 e ci aggiungo la mia estensione watt.test pippa.test interessante anche questo esempio perché appunto ci permette qualora avessimo una cartella con dei file che per un qualche errore di manipolazione o che so io non hanno l'estensione che fa comodo possiamo aggiungerla a noi automaticamente con un semplice comando di questo tipo questo è già un bel comando potente che fa questo tipo di lavoro ok qui si usano i gruppi appunto questo l'ho già spiegato riferimento dollaro 1 dollaro 2 eccetera eccetera e voilà ultimo esempio e ultimo esempio anche di tutto il corso a questo punto visto che siamo alla fine dell'ultimo video facciamo pure anche questo comando cosa fa? vengono rinominati file che hanno nel nome le parole generazione e chiave scambiandole e unendole con un trattino e questo comando usa tra l'altro anche il flag i per ignorare il maiuscolo minuscolo quindi eseguiamo eseguiamolo quindi terminale eseguiamolo e vediamo cosa ha fatto quindi sfruttando di nuovo i gruppi sfruttando di nuovo i due gruppi li scambia questa volta non li mantiene nella sequenza originale come il comando precedente ma qui voglio scambiarle ci metto un trattino in mezzo il gruppo 2 e poi il gruppo 1 ignorando il maiuscolo e il minuscolo cosa succede l'espressione regolare cerca tutti i nomi di file che abbiano come prima occorrenza come prima stringa la parola generazione poi uno spazio e seguito dalla parola chiave guarda caso ignorando il maiuscolo e il minuscolo ho due file che hanno proprio questa situazione generazione spazio chiave generazione spazio chiave li rinomina scambiando quindi chiave righetta generazione chiave trattino generazione e vedete che funziona perfettamente quindi possiamo anche scambiare i termini nei nomi dei file tutto quello che vogliamo grazie a gruppi e grazie alle potenti espressioni regolari come per tutti gli altri video anche in questo caso vi lascio dei riferimenti per questo comando rename che è potente anche lui non meno degli altri e questa volta essendo l'ultimo video vi saluto in modo diverso nel senso che spero di essere riuscito ad essere sufficientemente chiaro nelle spiegazioni perché come ho detto nel primo video del corso l'argomento spessione regolare è assai tecnico non è proprio il più consueto adatto per un canale come il nostro dedicato agli utenti comuni come ci chiamiamo sempre noi qui su questo canale spero appunto di non avervi annoiato troppo e di non avervi confuso troppo le idee di essere stato chiaro a sufficienza in modo che possiate sfruttare almeno la possibilità di di saper leggere interpretare l'espressione regolare è come già dicevo appunto nell'introduzione del corso non è che l'obiettivo deve essere per forza quello di diventare un guru un professore di espressione regolare alla fine del corso l'obiettivo primario importante per utenti come noi è quello di incontrare un'espressione regolare e non spaventarsi ma riuscire a determinare a leggerle a capire che cosa fa quella tal espressione regolare e questo per anche avere una certa sicurezza nel magari copiare materiale dalla rete incollarlo nel nostro terminale eseguire qualcosa senza magari saper bene cosa fa a questo punto spero di avervi dati le basi almeno per usare con coscienza comandi che includono magari espressioni di questo tipo ecco tutto qui con questo punto chiudo questo corso sulle espressioni regolari vi faccio un bel saluto vi attendo alla prossima occasione che potrà essere un video singolo o magari una nuova serie chi lo sa vedremo e per ora comunque ciao ciao